Beba Albanesi, buonasera Chiara, benvenuta, ci vediamo via Veneto, sono molto felice di essere qui E noi siamo veramente onorati, sei una grande cantante, una grande interprete, interpreti la Romanità a Roma, le tue canzoni ci fanno sognare a dir poco Così è la vita, almeno la mia Dice che dice Chiara Rai? Il mio figlio del 2018 È uno spettacolo scritto e ideato da te Da me insieme a Bruno Stanzione e Angelo Di Palma che mi hanno accompagnato, sostenuto e hanno scritto insieme a me questo spettacolo Che veramente io dico nel 2018 ho partorito due volte, mia figlia e il mio spettacolo Ed è uno spettacolo in cui c'è tutto, c'è un po' della mia vita che è anche Roma E quindi c'è tanta Roma, c'è l'incontro con Lando Fiorini, poi probabilmente ne parleremo Eh sì, è come possiamo non parlare Di questa meravigliosa avventura che per me è stata una grande opportunità e soprattutto il ritrovo di una nuova famiglia Perché la famiglia Fiorini mi ha accolto a braccia aperte e c'è una squadra meravigliosa E io veramente ringrazio l'universo, la vita di avermi fatto questo infinito regalo E cos'è la vita per Beba? Ah, la vita è un sacco di cose Mi piace perché alla fine è strammatissimo Sì, la smonti tutto e ti fai una risata La vita è un sacco di cose Ma principalmente mi viene una risposta sola, se si riesce la vita è amore Perché attraverso l'amore si riesce a vincere tutto Ogni cosa, ogni paura, ogni momento di difficoltà E quindi la vita deve essere amore Quindi la forza di una sola parola cosa fa? Ora sono marzuliana, ti dico Lando Fiorini, il Puff e la Romanità Lando Fiorini, il Puff e la Romanità Dai, raccontaci però Allora, è capitato un po' di anni fa Ma che per caso io mi sono iscritta al Festival della Canzone Romana Con un pezzo scritto da me Ho vinto in maniera totalmente inaspettata E questa è una cosa che ho raccontato Per te ho raccontato, per gli altri magari Sì, no, ma perché non ero raccomandata da nessuno Quindi è per questo che è stata una grande sorpresa per me Vinco il Festival della Canzone Romana Vengo premiata da Lando Fiorini Ma quello fu un incontro proprio molto veloce Anche perché insomma ero abbastanza piccola Insomma c'era tutto il baracone del Festival Da lì capisco che la mia vita professionale Doveva andare in quella elezione Quindi cantare una Roma nuova E che è importante Sì, fino a quel punto avevo tanto studiato Tanto cantato Tanti generi diversi Quindi dovevo trovare Esatto, dovevo trovare una mia condizione Da lì capisco che la mia condizione era Roma La città dove sono nata La città dove sono cresciuta La città di mio padre e di mia madre E dopo un po' di anni Invento, metto su, la banda di Bebba La banda di Bebba che inizia a fare Insomma, la banda di Bebba era veramente un sogno Anche perché ho detto Se la devo fare La faccio fatta bene Quindi Otto elementi sul palco Via Una cosetta In un momento in cui tra l'altro L'economia in generale E per l'arte ancora di più Otto elementi sul palco Era proprio difficile da vendere Però tu vuoi dire O la va o la spacca O la va o la spacca Succede che mi chiamano per partecipare In una serata Per fare un concerto Alla festa di Noantri A Trastevere Il mercoledì sera Il mercoledì sera Perché ovviamente Non essendo un nome Non potevano darmi una serata principale E lì ci fu La prima sostituzione A Lando Fiorini Perché Lando aveva il sabato sera Purtroppo già non stava in forma E quella fu la prima serata In cui il direttore artistico Della festa di Noantri Mi chiamò e mi disse Bebba solo tu mi puoi coprire La piazza di sabato sera Inventati qualcosa Perché dovrai sostituire Lando Fiorini Tra il terrore E la felicità Esatto Poi tra il terrore E la felicità Ti concentri E ragazzi Dobbiamo fare tutto E mentre facevamo Il soundcheck Passavano Gli ultimi Trasteverini rimasti No Io ero lì Sul banco del mixer Il semifonico Una signora Mi fa Ma che fate stasera Io Ma c'era Lando Fiorini Io sono rimasta così Guardi signora Se lei viene stasera Abbiamo fatto i tatuaggi Alla musica romana E fu una serata Meravigliosa C'era Piazza Santa Maria Il Trastevere piena E addirittura Che bella Non me lo dimenticherò mai Venne una coppia Giovanissima Del nord Credo di Genova Se non ricordo male A farmi complimenti A farmi complimenti Addirittura Ricevere complimenti Da una coppia Di giovani genovesi Sulla musica tradizionale romana Per me fu una grandissima soddisfazione Una scommessa vinta Quella sera lì C'era Iara Conegliani Che era la responsabile Del Puff Insomma Lui è stata Un fu storico locale Un fu storico E riportò A Francesco Fiorini Figlio di Lando Che aveva visto Questa ragazza Che cantava la Roma Come non l'aveva mai sentita E poi voglio dire Sono passati cinque anni E quando Lando È salito in cielo In maniera Ci abbiamo tempo Vado Chiacchiero io In maniera Molto tranquilla Grazie ai social Mi arriva un invito Di Francesco Fiorini Che Pubblicizzava la nuova stagione Del Puff Con tutta la programmazione E io Con una faccia di bronzo Che non mi contraddistingue Perché anche se non sembra Sono molto timida Gli scrivo Grazie per l'invito Se ti avanza Una serata libera Io sono questa E inizio a mandargli Sì 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 Proprio così Mi sei buttata Cosa che non ho mai fatto Nella mia vita Però forse è il momento Esattamente E praticamente Lui mi risponde Io so chi sei Quanto prima Vieni di a prendere Un caffè al Puff E tu? Oddio Mi hanno preso Sul serio Dico vabbè Ma sì ma dai Ma non mi risponderà mai Così ma ti pare Era Natale Era il momento In cui Lando Poi tra l'altro Stava proprio male Ci stava per lasciare E il 20 Mando un messaggio A Francesco Per fare gli auguri Di Natale Lui mi telefona E mi dice Senti ma domani Tipo a Santo Stefano Ma puoi venire a prenderti Un caffè al Puff Certo E da lì è cominciata Questa splendida avventura Perché A me non piace mai Dire ho preso il posto Di Lando Fiorini Anche se Francesco Lo dice sempre Essendo il figlio Per me è un grande onore No Però diciamo Sono diventata la voce Del Puff Nello spettacolo Anniversario di 50 anni E tutto quello Che Beh È una bella Mi vengono sempre i brividi Quando mi dicono E oltre che il cantante Veramente Sei una grande interprete Io Quando sei sul palco Emozioni Grazie Entri dentro Io Io dico sempre Che quando Canto Entro In un mondo Mio Dove C'è tutto Dove c'è ogni sofferenza Dove c'è ogni gioia Ogni traguardo Ogni Ogni sconfitta Perché poi Questa Questa è la vita Così è la vita E Spero Cerco Attraverso Le mie interpretazioni Di portare il pubblico Nel mio mondo E di fargliene vedere Un pezzettino Per far scoprire Un pezzettino Di me Insomma Adesso Non è un mondo chiuso No Non è un mondo chiuso Infatti Ci dovevo far entrare Insomma Non è un mondo chiuso Sai coinvolgere Questo Che è una caratteristica tua E subito Quando mi si dice Quando Mi viene detta Questa cosa Io sono sempre molto felice Perché è il fine ultimo Sapevo di non essere Riturata No Però È quello che io desidero Quindi È una vittoria Prendo e porto a casa Ti vedo in questo periodo Il nuovo Puff Il nuovo Puff 52 anni Francesco Fiorini E lo storico Salone Margherita Lo storico Salone Margherita Il più il Puff ha cambiato casa Adesso siamo All'antica stamperia Rubattino Che è la nuova sede del Puff A Testaccio In via Rubattino Dove c'è già tutta Una bellissima programmazione Io sarò Sotto casa di Gabriella Ferri Non è che insomma Siamo andati Tra Lando e Gabriella Siamo rimasti sempre Nel cuore di Roma C'è una programmazione Già in corso Si sono già fatti Degli spettacoli Io sarò in scena Con il mio spettacolo Così è la vita Almeno la mia Il 28 marzo Mi sembra E Per gli spettacoli Diciamo Quelli un po' più Non ufficiali Però quelli che Hanno bisogno Di un bacino d'utenza Più grande C'è stato questo abbraccio Tra il Salone Margherita E il Puff Anche quello storico Ideato da Da Francesco Che ha fatto Questa cosa Meravigliosa Abbiamo fatto la festa Dei 52 anni del Puff La scorsa settimana Proprio al Salone Margherita Al Bagaglino È lì Un'altra grande emozione Ed è L'inizio Di una nuova storia Che però è una storia Che continua Dall'inizio di Lando Quindi Non si ferma Il nuovo Puff In realtà Porta tutto il suo mondo con sé E si allarga Assolutamente Bello Bello Mi manda Armando Albanese Tuo padre Tuo padre Che non c'è più Ma anziché Lasciare un vuoto Ha riempito Grandi spazi Per tutti Tutti lo ricordano Con tanto affetto Nei quali di tante persone E lo volevo dire E tu lo ricordi sempre Anche con il tuo spettacolo Sì Lo ricordo Nel mio spettacolo Lo ricordo con Mi manda Armando È stata La volontà di non Proprio perché attraverso L'amore è eterno L'amore L'amore non ti fa morire L'amore resta per sempre No? E allora Come l'arte Come l'arte Come l'arte Tant'è vero che Quando mio papà Si è ammalato Ovviamente Mi vengono i primiti Parlando con un mio amico Collega Dissi queste parole Qualunque cosa succeda Io ritroverò mio papà E il suo abbraccio Nella nevicata del 56 Ogni volta che canterò La nevicata del 56 Perché poi Ho sentito cantarla Perché mio papà Era del 56 E Subito dopo La sua partenza Allora Mio papà è partito Dopo un po' È partito Lando E io sono sicura Che mio padre Appena Ha visto arrivare Lando in paradiso E ha detto Lando vieni qua Ti devo parlare Mia figlia Così e così e così E ogni volta Che io cantavo La nevicata del 56 Quando mio padre Era in vita Lui si metteva In prima fila E con aria gonfia Orgogliosa Diceva Questa è la canzone mia È mia figlia È mia figlia È la canzone mia Perché io sono del 56 La canzone che io Muore mio papà Muore Lando A dicembre Io a febbraio Entro al Puff Il brano Uno dei brani Che mi hanno assegnato All'interno dello spettacolo Dei 50 anni del Puff È stato La nevicata del 56 Io non ho mai cantato Così tanto Come negli ultimi anni La nevicata del 56 Per questo che dico Mio papà c'è In altra forma E mi manda Armando È stato uno spettacolo Per Per ricordarlo L'abbiamo messo su Per lui Per ricordare lui Ma in realtà Dato che lui Nella sua vita Ha sempre fatto per tutti Io ho ancora persone Che mi incontrano per strada E mi dicono Sai che tuo papà Mi pagava le bollette Cioè cose che noi Di famiglia non sapevamo Perché lui faceva tutto così E lui era Avendo Esatto Avendo aiutato Tante persone In particolare Queste due opere Che lui ha seguito Per tutta la vita Una è all'Aquila Ed è la fraterna Tau Che è una mensa Per i poveri dell'Aquila Messa in piedi nel 2000 Insieme Poi crollata con il terremoto E ricostruita dopo il terremoto E il villaggio Da un bosco di Tivoli Che è un All'epoca Nel dopoguerra Era un Un orfanotrofio Per gli orfani di guerra Poi è diventato Comunque una casa Famiglia Per ragazzi Che hanno difficoltà E vengono proprio cresciuti Avviati allo studio Avviati al lavoro Ed è una realtà bellissima Anche quella Abbiamo deciso di fare Tutti gli anni Uno spettacolo Nel giorno del compleanno Di mio papà Per fare festa Non solo E devo avere L'incasso in beneficenza Questo è il modo Per festeggiare mio papà Perché lui è andato via Comunovente Lasciandoci una frase Siate felici E quindi noi ci impegniamo E lo fate E lo facciamo E lo facciamo E lo facciamo Avevi le idee chiare Fin da piccola Io l'ho letto Non posso credere A beba piccola In miniatura Che partecipa Allo zecchino d'oro Allo storico zecchino D'oro Poi hai spiccato il volo Esatto Nel 1988 Massimo Ranieri Vince il festival di Sanremo Con Perdere l'amore Mio papà Che tra le altre Mille velleità Era anche diplomato In fisarmonica Quindi l'orecchio musicale A casa c'era Mi sentì cantare Il giorno dopo Cantare Strillare A squarciagola A quattro anni Per i corridoi di casa Perdere l'amore Ficeo Attenzione E quindi iniziamo Questa cosa Questo percorso In realtà Poi all'inizio Lo zecchino d'oro Non so se ti vendevano Un'enciclopedia Ma io ero piccola Me lo ricordo Arrivarono a casa E mia madre Che assolutamente È una donna Di una sensibilità Meravigliosa Ma molto quadrata Molto concentrata Disse Ah no 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 Guardate Io non compro niente Un attimo Che chiamo mio marito Mi scambiarono Venne mio padre Mia madre Andò al lavoro E feci questo provino Feci questo provino E queste persone Che vennero a casa Dissero No 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 L'enciclopedia Non la dovete comprare La bambina Però deve partecipare Eppure lì Tutto iniziò Eppure lì Tutto iniziò Tutto iniziò lì Nulla è a caso Si dice Assolutamente Ci parli di beba Beba donna Beba mamma Beba nei panni Di tutti i giorni Beba nei panni Di tutti i giorni È in tuta No dai Può ridare Non è vero Non è vero Jeans e scarpe No La tuta no Insomma È contro la mia Religione Beba donna Ha avuto la fortuna Di incontrare Un uomo meraviglioso Perché quando si fa Questo mestiere Non sempre è semplice Trovare Quindi beba donna Innamorata Innamoratissima Innamoratissima Lo faccio nero ogni volta Però Innamoratissima Fa parte della tua umanità Farò vedere Quest'intervista Così A me non mi sono convinto Sì E Di trovare Matteo Che Ha capito subito Noi ci siamo conosciuti Che io cantavo Nel suo locale a Trastevere Lui aveva un locale a Trastevere Però sai Poi andando avanti Ora il locale non lo ha più Fa tutt'altro lavoro Però andando avanti negli anni Poi Subentra nell'uomo La gelosia La competizione Di avere La sua compagna Sempre Molto spesso Al centro dell'attenzione Che In alcuni momenti Devi Condividere la tua compagna Con il pubblico Non era Passato mai Nessuno Prima di Matteo Che fosse in grado Di fare questo Di far uscire Tua moglie Con una bimba piccola La sera Per andare a lavorare Perché noi facciamo Un lavoro Che è principalmente Notturno E lui è un uomo Di una grandissima Intelligenza E siamo innamoratissimi Ha saputo metterti le ali Esatto E uno più uno Siamo diventati tre Con Virginia Che è la nostra bambina Arrivata Più o meno Un anno e mezzo fa E la cosa bella Tornando al Puff È che io Ho firmato Non vieni che torna al Puff È tutto È tutto No per i torni al Puff È tutto collegato Perché io ho firmato Diciamo Il mio contratto Con il Puff E più o meno Durante la prova generale Più o meno No Iniziavo a sentirmi poco bene Facciamo Mi manda Armando Quell'anno Il giorno dopo Di mi manda Armando Io scopro di essere incinta Faccio il test E scopro Quindi mi sono fatta Qua incidenza Nove mesi Di palcoscenico Con la pancia Che piano piano Cresceva E anch'io Perché insomma Diciamo Ho fatto tutto ciò Che non si deve fare In gravidanza La bimba ha condiviso E addirittura Il mio ginecologo A 20 giorni dal parto Io avevo un concerto Che dici Io avevo un concerto importantissimo Al Gianicolo Il compleanno di Franco Califano Con Alberto Laurelti Tutti i rumba de mare I musicisti di Franco Califano Era una cosa troppo importante A 20 giorni dal parto A 20 giorni dal parto Avevo una pancia enorme E tra l'altro Dovevo interpretare Dei pezzi Che avevano Degli acuti Stratosferici Tanto è vero Che La mia sorella La mia più cara amica Era sotto al palco Che Con l'ansia E la borsa Dello stagione Pronta In macchina Perché dice Ora la prendo Da lì E la porto Prossimo acuto Lei partorisce sul palco E il ginecologo Prima di questo concerto Mi disse Se adesso non ti fermi Io ti ricovero Esatto E Con le minacce Concerto Benissimo Meraviglia È stato il concerto Della vita Però sei andata poi E poi dopo Mi sono fermata E ti posso assicurare Che i 20 giorni Sul divano Perché non potevo più muovermi Mi avevano bloccato Era una mano santa No Non ce la facevo Ho iniziato a fare cose Bricolaci Con le mani Mi sono messa a fare Dei ciondoli Insomma Lo chiedo a tutti L'abbiamo capito Però Il tuo sogno Nel cassetto No Uno solo E troppo poi C'è un cassetto E c'è un baule Un baule di sogni Un baule di sogni Dalla macchina dei sogni Allo spettacolo dei sogni Non ce l'ho un sogno Nel cassetto E In realtà Potrei darti Una risposta scontata Come quella Il festival di Sanremo Diventare Una cantante di successo In realtà Senza mancanza di umiltà Già lo sei Mi sento di essere Già Una cantante E una donna di successo Perché poi Con una bambina Diventa tutto Molto più faticoso Ma quando torni a casa E lei dorme Nel suo lettino La guardi E l'ultima cosa Che fai Prima di andare a dormire È dare un bacio a lei E questo è il successo Nella vita Continuare ad investire Per crescere Professionalmente Per crescere Come persona Non si finisce mai Di imparare Nel nostro mestiere Ma in generale Nella vita E quindi Il sogno del cassetto È questo Continuare a fare Quello che sto facendo Continuando a preservare La mia vita Il mio essere donna Il mio essere moglie Il mio essere madre Madre lo metto per ultima Bell'impegno Madre lo metto per ultima Perché A differenza Di tante situazioni Che ho visto I figli molto spesso Poi creano Delle complicazioni A livello di coppia Ma in realtà Come diceva Don Pierino Germini I figli sono frecce Quindi Bisogna Tenersi stretto Chi Fino a quel momento Ti ha accompagnato In tutti i momenti Della tua vita Che bello Quindi Mio marito Viene prima di mia figlia Stai regalandoci Un altro bel momento Come sempre Hai questo Vizio te Beba Albanesi Grazie 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 a voi Ciao 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 Ciao